I rappresentanti delle istituzioni europee reagiscono alla sfida lanciata dal governo italiano e aderiscono al dispendioso progetto di bilancio proposto da Roma. La lettera trasmessa alla Commissione europea dal ministro all'economia Giovanni Tria non modifica nelle previsioni di crescita economica nell'obiettivo del deficit del 2,4%, già inaccettabile per Bruxelles. Peraltro sbaglia anche ad esasperare i toni nei rapporti con la Commissione europea che naturalmente applica delle regole, che a mio giudizio vanno applicate con flessibilità, ma il governo non sta cercando un negoziato per la flessibilità, sta cercando uno scontro propagandistico che non fa bene né all'Europa né all'economia italiana. Mara Bizzotto, esponente della Lega e deputata del Gruppo Europa delle Nazioni Libertà al Parlamento europeo, ha incontrato Euronews per rispondere a quanti ritengano che il governo stia andando nella direzione sbagliata. La manovra italiana è una manovra coraggiosa che ci viene chiesta dai cittadini. Sono stanchi di imposizione da Bruxelles che non hanno portato a nulla e vogliono un governo italiano che difenda gli interessi dei cittadini. La corrispondente di Euronews Elena Cavallone ha intervistato l'eurodeputato francese Jean Arthouy del Gruppo Alleanza dei Liberal Democratici. Se siamo membri dell'Eurozona dovremmo avere il coraggio di dire agli elettori che abbiamo condiviso parte della sovranità con l'Europa. Se questo è chiaro, vogliamo la sovranità totale e poi abbandoniamo l'Eurozona, come è stato anticipato prima delle elezioni, non possiamo restare con un piede dentro e uno fuori. Un portavoce della Commissione europea ha confermato di aver ricevuto il documento di bilancio e la richiesta di flessibilità espressa dalle autorità italiane. Roma attende risposta per il 21 novembre e non escludono scontro con Bruxelles in caso di avvio di misure disciplinari verso l'Italia.